Drammatico incidente nella serata di venerdì nel tratto di strada che collega Oneta con Zambla Alta. A perdere la vita il 21enne Simone Bertoncini di Barga in provincia di Lucca, scontratosi con un altro centauro che procedeva nell'opposta direzione. Il giovane verso le 17.30 stava salendo in sella la sua moto verso il passo di Zambla Alta sulla strada provinciale della Valle del Riso, lungo la quale si stava allestendo il Memorial Fausto Ducci, gara di motociclismo in programma sabato e domenica, alla quale la vittima avrebbe partecipato in quanto portacolori di un motoclub toscano. Grave anche il secondo motociclista, un 36enne originario del Comasco, residente in provincia di Vicenza, soccorso dai sanitari dell'Eli Soccorso e trasportato agli ospedali riuniti di Bergamo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il 36enne Vicentino, al seguito di un team ma non presente tra gli iscritti alla manifestazione, stesse percorrendo con la moto da gara il tragitto in direzione di Oneta, non considerando il divieto di utilizzare il mezzo da competizione sul percorso prima che la strada venisse regolarmente bloccata per le prove. Uno scontro frontale improvviso inevitabile, inutile i tentativi disperati di soccorso, il 21enne moriva poco dopo lo schianto. Sul luogo della tragedia è prontamente intervenuta anche Cesarina Bendotti, sindaco di Oneta, medico di professione, che ha tentato disperatamente di rianimare il giovane e successivamente si è adoperata nell'aiutare durante i soccorsi e i rilievi dei carabinieri. Si è dovuto attendere la serata per riportare la circolazione alla normalità dopo essere rimasta bloccata per ore. Il Memorial, giunto alla seconda edizione, era stato ideato in ricordo di Fausto Ducci, pilota a 28enne di Gorno e campione di moto da corsa che nel maggio 2009 rimase ucciso nello schianto tra la sua Smart e un Audi a pianico.